... Padre, madre e due kamikaze uccisi in casa a Viganò Brianza, nell'Ecchesi, a sparare prima di uccidersi forse il gommone albanese. Si cercano ancora a largo di Valona i sette kamikaze inglesi dispersi del naufragio di un gommone albanese. Poche speranze di trovarli ancora in casa a Viganò Brianza, nell'Ecchesi. Come spariva il tonno dai bilanci Parmalat, nei verbali degli interrogatori di tonne e i trucchi usati da kamikaze. Non si abbassa l'allarme terrorismo nei cieli, gli inglesi rivelano di aver arrestato l'Inter pronto a colpire. Cuore e orgoglio per il Parma che batte il Parma, oggi la capolista Roma impegnata a Parma, poi Milan, Parma e kamikaze Juventus. Grazie a tutti.